Caro Siri Baddy, anche se sono inguardabile, ve la devo fare vedere, non vi posso lasciare in sospeso. Ovviamente con l'impasto che avete visto prima ho realizzato le olive velere, infornate, stai scherzando? Ovviamente no, perché ho realizzato con un impasto due cose diverse, ovvero la pizza in teglia super soffice, questa qua è salami piccante, gorgonzolo, olive e mozzarella, che la inforniamo di nuovo, abbiamo fatto metà cottura e la rinforniamo per non fare bruciare la mozzarella, fate così, e la focaccia, guardate la leggeresse. Poi nel video vi dirò come ho fatto, per la focaccia invece ho utilizzato cipolle rosse, olive verdi denocciolate e pomodorini, guardate qua la meraviglia, questi qua della marca Pignatiello, che sono sempre raccolti di stagione, buonissimi, ovviamente il mio olio extravergine di oliva afferlito, ditemi se volete la ricetta di questa meraviglia, questa la faremo col prosciutto crudo.